Buongiorno Fagnano, eccoci con il nostro consueto video di informazione con la cittadinanza. Questi video da oggi si terranno tutti i venerdì, di modo che così possiate conoscere al meglio l'attività dell'amministrazione comunale. Oggi trattiamo quattro argomenti. Il primo è un aggiornamento dei dati Covid, che è un po' che non vi vengono dati. Attualmente a Fagnano ci sono 5 positivi. Da inizio pandemia ci sono stati 1.212 casi, 1.185 sono le persone guarite e 22 purtroppo le persone decedute. Il secondo argomento riguarda i cantieri. In centro a Fagnano stanno costruendo i nuovi marciapiedi lungo la via Diazza e la via Tronconi. Ci scusiamo per il disagio, per la chiusura di alcune strade, di modo che non potete purtroppo raggiungere facilmente la piazza San Gaudenze o la piazza Cavour, ma siete costretti a fare code lungo il semaforo di via Guglielmo Marconi. Appena chiuderà il primo step del cantiere riapriremo la via, di modo da dare possibilità al traffico di difluire più facilmente. Il terzo argomento riguarda gli incontri che questa amministrazione ha intenzione di fare nelle varie zone del Paese. È una delle vere promesse che abbiamo fatto durante la campagna elettorale e che voglio mantenere. Quindi ci sposteremo nei vari quartieri di Fagnano, nei vari rioni, per ascoltare e chiedere alla cittadinanza le loro problematiche e le loro esigenze. Anche questo è una nuova modalità di contatto diretto che abbiamo intenzione di attuare appena possibile. L'ultimo argomento riguarda il Pedibus. Cerchiamo volontari. Quindi prossimamente anche qua vi verrà comunicata la modalità per candidarsi a fare i volontari del Pedibus e poi successivamente, prima di avviare il progetto, l'assessore alla pubblica istituzione vi incontrerà. Non mi resta altro che augurarvi un buon fine settimana e alla prossima!